Fate largo! Sono l'agente McCorn, abbiamo un codice 1031. Ci penso io! Cosa? Agente Ops, sono l'inseguimento! Woohoo! Puoi identificare una targa? Flash qui è il più veloce di tutti. Qualunque cosa gli chiedi la fa all'istante. Aspetta. Sono tutti bradipi? Cosa non starai dicendo che un bradipo non può essere rapido? Flash! Flash! Cento metri in un flash! Sono contento di vederti. Sono contento anche io. Agente Giudì Ops, rapidizzata, come va? Direi che va... Bene. Bene. Cosa non ancora? Posso fare... Beh, speravo che potessi identificare... Per voi? Beh, speravo che potessi identificare... Beh, speravo che potessi identificare una targa, ed è anche molto urgente! E il numero della targa? 29T... Qual è? 29THD03 2 9 T H-D-03 H-D-03 D-03 0-3 0-3 Ehi, Flash, ti faccio un indovinello? No! Sì. Bene. Come si chiama? Un cammello a tre gobbe? Non lo... so. Incinto. Cammello a tre gobbe? Ah, 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 ah! Ha, 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 ha! Eh, sì, divertente, molto divertente! Ora potremmo concentrarci sul... Aspetta, aspetta, aspetta! Viscilla! Oh, no! Sì? Flash? Come? Sì? No! Chiama! Un cammello a tre gobbe? Incinto! Ok, ormai l'ho detto! Per favore, non... Svelto! È quasi l'ora di punta e... È notte! nello... Grazie! Grazie!